Danilo Bulevardi, centrocampista siciliano classe 95 di proprietà del Pescara, è il terzo rinforzo del mercato invernale dell'Aquila Calcio, dopo gli arrivi del portiere Scotti e del difensore Pesoli. Il giovane di Mazzara del Ballo ha firmato ieri pomeriggio il contratto che lo legherà a Rosso-Blu fino a giugno, con la formula del prestito secco dal Pescara. Questa mattina lo stadio di Acquasanta ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni, giocando l'amichevole organizzata contro la Berretti. La condizione fisica è già buona. Il mediano siciliano viene infatti da 180 minuti giocati con la nazionale italiana di Serie B in Inghilterra tra il 18 e il 20 gennaio contro Russia e Aston Villa. In più, in questi mesi, nonostante con i biancazzurri di Massimo Oddo abbia giocato solo contro il Como in campionato, è riuscito a mantenere il ritmo partita giocando spesso con la primavera biancazzurra. Il Rosso-Blu ritroverà la colonia piscarese composta dai vari Savelloni, Sanni, Milicevic, Andrea Mancini e Pesoli. Anche lui da oggi è a disposizione del tecnico Perrone. Non finisce con Bulevardi, però, il campionato in entrata dell'Aquila. La caccia ora è al terzino. Il DS Aquilano Battisti ha in mente uno scambio nel quale inserire il difensore inglese Anderson ai margini del progetto Rosso-Blu. Se però la trattativa top secret con alcuni club di Lega Pro non dovesse andare in porto, verrà tesserato il terzino ex salernitana Christian Chireletti, in prova da inizio gennaio.